Buongiorno da ETG Marche, ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come di consueto siamo in contemporanea streaming anche sul nostro sito internet tvmarche.it, la nostra pagina Facebook, la nostra app di ETV in apertura. Torniamo sul fatto di cronaca che ha visto protagoniste due supercar, due Ferrari che ieri ad Osimo si sono lanciati in una folle corsa oltre i 130 km orari e in curva sono finite fuori strada e poi hanno arrestato la loro corsa contro la cancellata di una villetta. Una delle due auto ha anche preso fuoco fortunatamente. Illesi i protagonisti, sentiamo. Inizia oggi ufficialmente la Formula 1, ma non si corre, sembra solo in Bahrain. A Osimo non una ma ben due Ferrari hanno dato spettacolo. Peccato si sia trattato di un incidente stradale, fortunatamente senza feriti gravi. Ecco il momento dello schianto ripreso dalle telecamere di sorveglianza di questa villa in via Molino Basso. I due boli di una SF90 da 400.000 euro e una F12 Berlinetta da 300.000 euro saltano la curva, salgono sul cordolo e prendono letteralmente il volo. Tutto esattamente come in un Gran Premio. Qui però non ci sono barriere o vie di fuga e le auto finiscono dritte, dritte contro il muro di recinzione della villa. La SF90 rimbalza sul prato prima di chiudere la sua corsa contro il muro. Peggio va la F12 che si stianta contro il cancello e prende fuoco. L'incidente è avvenuto oggi intorno alle 12 sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Si è alzata in volo anche l'eleambulanza ma poi è stata fatta rientrare. I due guidatori, un belga e un olandese, in vacanza nella nostra regione non hanno riportato gravi conseguenze. Solo uno dei due è ferito in modo lieve. Nessun altro veicolo, fortunatamente, è stato coinvolto nell'impatto. Ed ora parliamo di lavoro. Parliamo però di lavoro al femminile, visto che quella che si apre domani sarà la settimana dell'8 marzo e quindi della giornata internazionale della donna. Ebbene sono molte le donne che fanno impresa, fanno impresa nelle marche nonostante le tante difficoltà e soprattutto le diffidenze del mondo del lavoro e anche degli istituti bancari nei confronti delle imprenditrici declinate al femminile. Per loro ogni giorno è l'8 marzo. Sono le donne che fanno l'impresa. Si trovano a combattere quotidianamente con le difficoltà, a conciliare lavoro e famiglia, con la carenza di asili e servizi per i figli, con la diffidenza delle banche, quando vanno a chiedere un credito per un investimento aziendale. Alla fine del 2022 le imprese femminili attive nelle marche erano 33.141. Di queste 3.500 hanno una titolare con meno di 35 anni, quasi una su 10. Ancora di più sono le donne straniere che hanno deciso di fare impresa nelle marche. Sono oltre 4.700, pari al 12,4% delle aziende guidate da una donna. Imprenditrici straniere che operano soprattutto nel commercio e nella moda. Le imprese femminili guardano all'export. Il 54,5% ha dichiarato di aver esportato nel biennio 2021-2022 e il 28,1% ha aumentato la quota export lo stesso anno. In 365 giorni, secondo l'indagine di CNA Impresa Donna e Donna Impresa Confartigianato delle Marche, si sono perdute 1.237 imprese femminili. Negli ultimi 5 anni sono scomparse 1.924 imprese guidate da donne. Nel periodo 2018-2022 le imprese femminili hanno perso oltre 1.000 imprese solo nell'agricoltura e oltre 864 nel commercio, 402 nel manifatturiero, 129 nei servizi di alloggio e ristorazione. Le imprese femminili, però, investono di più sulla transizione ecologica e digitale. Negli ultimi due anni il 12% delle imprese guidate da donne ha investito nel green contro il 9% di quelle maschili. Nella transizione digitale ha investito il 14% delle imprese femminili contro l'11% delle maschili. Questo, malgrado le loro maggiori difficoltà ad ottenere finanziamenti bancari e agevolazioni pubbliche. Il grosso delle imprese femminili marchigiane in attività, pari al 41,6%, ha aperto i battenti tra il 2010 e il 2019 e il 9,9% negli ultimi tre anni. A crescere in questi ultimi anni sono state soprattutto le imprese nei settori della tecnologia, lasciandosi alle spalle il luogo comune delle donne imprenditrici nei settori maturi e tradizionali. È il caso dei servizi di informazione e comunicazione, delle attività immobiliari, delle attività professionali, scientifiche e tecniche, ma anche dell'istruzione. La pagina politica verso le elezioni comunali di Ancona, unico capoluogo di regione alla prossima tornata elettorale del 14 e 15 maggio, era e resta il terzo candidato in corsa, Francesco Rubini, a rappresentare altra idea di città, nonostante non si sia arrivato ad un accordo con Verdi e Movimento 5 Stelle, Rubini dice che le porte rimangono aperte. Confermiamo la linea che avevamo già proposto nel luglio dell'estate scorsa. Noi abbiamo detto fin da subito che volevamo aprire ad una coalizione più larga, che la mia candidatura era a disposizione, che la nostra proposta politica, la nostra esperienza politica era a disposizione di chi aveva voglia con noi di dare un'alternativa a questa città. Abbiamo interloquito con altre forze politiche, l'abbiamo fatto con il Movimento 5 Stelle e con i Verdi. Non avevamo questa necessità di trovare un salvatore della patria fuori da noi. Altri avevano questa necessità, abbiamo provato con loro ad individuare altre figure. Queste figure si sono dimostrate tutte indisponibili. Nell'ordine, Sauro Longhi, ex rettore della Politecnica delle Marche, Antonio Di Stasi, avvocato e docente dell'UniVPM, e poi da ultimo anche l'ex garante dei diritti Andrea Nobili, a declinare l'invito a correre da sindaco per il polo progressista, ambientalista, civico e soprattutto di sinistra. Niente da fare, e così, altra idea di città, unica forza politica a schierare in tempi non sospetti un candidato alla fascia tricolore riparte da lui, Francesco Rubini. Non c'è più tempo, non possiamo più aspettare, e ringraziamo i nostri interlocutori, con loro siamo certi che condivideremo punti di programma, mobilitazioni, lotte dentro e fuori il Consiglionale, ma noi confermiamo la nostra presenza, partiamo dal lavoro che abbiamo fatto in città e siamo convinti di poter rappresentare un'alternativa, una proposta di radicale cambiamento per la città. Che tradotto, la porta ai 5 stelle e ai verdi rimarrà aperta fino all'ultimo giorno utile per la presentazione delle liste attorno alla metà di aprile? Perché, per certo, se non si è trovata una sintesi sul profilo terzo per rappresentare la coalizione, l'intesa c'è da tempo sui programmi, area marina protetta, riqualificazione del porto antico e no alla banchina delle grandi navi, al molo Clementino, riapertura della stazione marittima e poi la lotta all'inquinamento, una nuova idea di viabilità, mobilità e gestione del traffico, i giovani al centro dell'agenda politica e stop alle esternazionalizzazioni dei servizi. L'altro tema importante e che ci differenzia rispetto ad un'amministrazione che abbiamo criticato e continuiamo a criticare è il tema del confronto con i cittadini. Noi la vediamo adesso l'amministrazione comunale che sta girando per i quartieri, ma in tutti questi anni dove è stata la partecipazione e la democrazia devono essere vere e non possono essere una volta ogni 5 anni. Il ministro San Giuliano oggi ha Pesaro per parlare di cultura, di Pesaro, della città capitale, della cultura, ma anche per partecipare alla tavola rotonda egocentrica, umanesimo versus metaverso, ripensare gli immobili, ripopolare i centri storici, riappropriarsi delle identità, una nuova cultura dell'abitare, tavola rotonda promossa dal centro studi della Mati Group di Pesaro. Nel suo discorso di apertura ha confermato l'impegno del ministero verso i borghi. I fondi PNRR infatti finanzieranno la progettualità per il rilancio con oltre un miliardo di euro. La pagina sportiva. Nel pomeriggio di oggi la Serie B in campo dalle 15 Lascoli che affronta il Bari in una sfida contro una formazione ambiziosa quella pugliese, ma Lascoli in striscia positiva. Quattro risultati utili filati con Roberto Breda in panchina, caccia di punti playoff. Sempre nel pomeriggio di oggi, trettesimo turno nel girone B di Serie C, si è aperto ieri con la sconfitta del Gubbio in casa contro l'Olbia. In campo le Marchigiane. Per quello che riguarda la Fermana c'è la trasferta in casa del Limolese, l'Ancona al Porta Elisa contro la Lucchese, la Re Canatese che riceve l'Alessandria, infine la Vispesaro alla prova più difficile al Benelli in casa contro la capolista Reggiana. Calcio d'inizio per tutti alle ore 14.30. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo come di consueto che le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito etvmarche.it ma anche sulla nostra pagina Facebook di Etv. Grazie ovviamente per l'attenzione, l'augurio, una buona serata e una buona continuazione di domenica con i nostri programmi. Arrivederci. Grazie a tutti i nostri programmi.